Viene bene il primo tempo, eh, con Fodrashani. Ancora. Wow! Irving Gapet. I vettori ci pensano un po', perché Irving Gapet va ad attaccare quel pallone, lo sfrutta, la grande. Questa è zocoleria allo stato puro. Rivediamo, grazie al replay. In difficoltà, Messe Marzeke, si addormenta Vettori, ma ci mette un brazzo. Quel brazzo di Irving Gapet, che punisce completamente.